Sì, non è pronto il pranzo ancora, non è anche la cena perché ci stiamo lavorando, tra pochissimi minuti inizia la nuova serie di Cuochefiamme, la prima puntata dove conoscerete anche i nuovi giudici, insomma dovete far soltanto una cosa, rilassatevi, sedetevi e prendete anche carta e pena perché ci sono tanti spunti da annotare. A tra poco! Sì, benvenuto pubblico, buonasera a tutti, buonasera agli amici della sette, buonasera a casa, ciao mamma! Sono emozionato, la pelle tocca, non vedevo l'ora di arrivare a questo momento, ci sono un sacco di novità nella nuova edizione di Cuochefiamme, ovviamente si parte dalla giuria. Ci sono due new entry, ve le presento come si fa con i boxer. Allora, è una donna, è una donna che ha scritto 16 libri, sta per uscire il suo prossimo, sia di ricette che di mise en place. È un'esperta a far diventare bello anche una semplicissima pasta al burro, è diventata per tutti la signora della Pavlova, Saba Dallazzorza! C'è anche un grandissimo ritorno, oltre a essere un amico, un esperto di cucina, una persona che mi fa sconfisciare dalle risate, è un esperto di cucina romana. E è anche un po' la mia coscienza sporca, un attore da palcoscenico, soprattutto uno che si mangia il teatro, Riccardo Rossi! Grazie! Grazie! Ciao Simone! Ciao Righi! Ciao Righi! Poi parliamo! Poi parliamo! Sono già preoccupato! Di cui, una persona di cui non sono tanto preoccupato perché lo conosco da tempo, abbiamo affrontato un viaggio lungo e difficile insieme all'Oriente. Lui viaggia tanto e me lo sono ritrovato in mezzo a delle colline, a delle vigne in Toscana perché si occupa di vino, ma soprattutto è una buona forchetta, nel senso che mangia tanto, ma mangia di qualità. Un buon gustaglio pazzesco, il mio amico Barù! Ciao! Grazie! Signore e signori, Simone Ruggiati! Ok, però, grazie, 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 grazie! Me lo prendo tutto, se vuoi! Simone! 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 Deveva l'ora di rientrare in questo studio, però, dopo tutti questi applausi, non ci scordiamo che i protagonisti in studio qua sono i concorrenti da Roma, Francesca! Lei è psicologa e quindi fa comodissimo! L'ho messa alla prima, Riccardo! Hai fatto bene, così ci dà una sistemata a tutti quanti! E ci darò anche qualche consiglio su qualcosa che a me interessa tantissimo, tu hai una fattoria! Sì, collaboro con il mio fidanzato e la sua famiglia nell'azienda agricola, quindi... Dopo ne parliamo, approfondiamo, mentre da Napoli arriva Elio, di uno metalmeccanico, e dice che la sua forma artistica la esprime in cuscina! Insomma, oggi è la prima puntata, siamo tutti piuttosto emozionati, ma ci scaldiamo in tre balletti, come si dice in Toscana, non da punti, ma dalla prelazione di scelta, è la prova di manualità! Eh, sì, 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 con il ragù, con le verdure in bianco, le fettuccine, insomma, fatte in casa, ci vuole poco tempo, vi abbiamo dato già la sfoglia stesa, perché avete pochissimi minuti, per la precisione due, per tagliare le fettuccine, chi ne fa di più e ovviamente chi le fa più simili e omogenee le mie! Pronti? Via! Ora, parte ufficialmente la prima sfida di Cuochi e Fiamme, nuova edizione manualità, per ricordo, a casa, per i vecchi amici che ci seguono, i fidelizzati, e per chi ci guarda per la prima volta, è che questa prova non dà punti, lo dico anche ai nostri nuovi giudici, ma darà la possibilità di scegliere il tema della prossima sfida, e non è niente di scontato, non è niente da poco, che ti manca? Eccolo! Tu le fai ogni tanto le fettuccine? Io sì, soprattutto quando trovo le uova la mattina nel pollaio, e sono veramente, veramente... Io farei solo l'applauso a questo che credo sia una ricchezza e un lusso, che nel futuro saranno sempre più fondamentali, insomma, la materia prima buona, l'ho detto in tutte le puntate, se si parte la materia prima buona, viene tutto buono. Senti Simone, non si può preparare un goccetto d'acqua salata, dove buttarle un attimo una scottatina, con un po' di burro e parmigiano, per capire un attimo un po' così... Dopo lo faremo, Ricci, dimmi la verità, come hai fatto? Come hai fatto senza poche fiamme per questo periodo? Ho mangiato solo cestini di parmigiano. Bene! Mancano 40 secondi, eh! Poi tra l'orto e il pollaio veramente mi diverto tantissimo. Tu invece cucini a casa, sei il cuoco di casa? Sì, sì. Sì? Sì, sì. Le si fanno anche a Napoli, le fettuccine. Insomma, non è una cosa che amo molto. Si fa più lo sciolatiello? O gli gnocchi, o... Diciamo qualsiasi tipo di formato di pasta, ma la pasta all'uovo, diciamo, non è molto... È più acqua e farina, diciamo, nel sud Italia, è classico. Allora, io direi che per la prima utilizzo proprio il pubblico. Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Viatti sull'alzata quando avete finito. Sì, due! Uno! Bravi, vola. Così va bianca la farina dalle mani. Ottimo, ottimo, partiamo alla grande. Sì, sì, hai ragione, Ricchi. Mettete su dell'acqua. Francesca o Elio? Volete vedere come era la mia demo? Devo dire, abbiamo detto fettuccine, quindi io sceglierei quelle di... Giusto, la parola, vedi il significato della parola. Queste sono più quasi pappardelle, le fettuccine sono queste. Siete d'accordo? Sì, sì. Elio, avanti. Elio, la fate un filo più sottile. La parola. Vabbè, ma Francesca ci fai ragù di cortile, serve pasta più grossa. Vabbè, vabbè, non hai perso punti, ma puoi scegliere tu Elio, quindi hai questo vantaggio. Allora, pasta con i peperoni? Sì. No. O pasta con i broccoli? Io direi... Sì, i broccoli va bene. Però, sai, c'è anche com'è la temperatura fuori, cos'è più di stagione magari adesso? Pasta con i peperoni. Vedo che i nostri concorrenti hanno capito. È pasta con i peperoni il piatto base per la prova di abilità. Entriamo nel vivo. Elio ha scelto pasta con i peperoni. C'è da fare la spesa, la dispensa è dietro di voi, ma c'è una regola. Chi ha vinto la prova ha 45 secondi per fare la spesa, mentre chi non la vince ne ha soltanto 30. Ma il tempo basta, l'importante è ricordarsi tutto, altrimenti il campanello verrà utilizzato per rientrare in dispensa, invece di avere un aiuto manuale dal sottoscritto. Usatelo bene, divertitevi, fateci mangiare dei buoni piatti con i peperoni. Pasta con i peperoni? Via! Via, via! Io vado a dare subito la mia lista di ingredienti, che sarà quest'anno molto molto più semplificata, ovvero vorrei farvi dei piatti con 4 ingredienti massimo. Fusilli integrali, peperone rosso, quindi 400 grammi di pasta, un peperone. Vai Francesca, un rametto di menta, un formaggio acido tipo la feta, quindi un panetto di feta. Direi basta così, la facciamo proprio liscia e pulita. Ovviamente sale e olio, questi non ve li sto nemmeno a dire perché in casa ci sono sempre. Allora Elio mi esce con una burrata che è come sventolare la bandiera della propria provenienza, stupenda. Un bel pezzo di tonno, del peperone rosso già pelato, patate presumo bollite. Abbiamo 3, 2, 1, stop! 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 Non ti è bastata prima la pasta? Eh no, è una passata. Bene, vediamo se c'è la rivincita. 9 minuti, Ricky! Non vedi i peperoni? Come no? Sono cotti. Ah ecco, non è... Cotti e crudi, potete scegliere. 9 minuti, mi raccomando, cottura della pasta perfetta. Via! L'acqua è sciata! Com'è? Tu è Ricky? L'acqua è sciata! Avanti! Elio non ha capito. Allora, vengo prima di tutto da voi, così loro si sciolgono un po' e andiamo un po' a approfondire quelli che sono le new end. Xaba, sei contenta? Sono molto felice di essere qui, adesso quando avremo mangiato sarò ancora più felice. Allora, io ti ho introdotto dicendo che tu sei una macchina da scrivere di libri, perché siamo già al sedicesimo. Tra poco esce il sedicesimo, lo stai dicendo prima. In autunno. Però non di ricette. Beh, ricette e anche un po' di storia, un po' di storia da leggere per capire quando usare queste ricette, perché sai, ormai le ricette si trovano in tanti luoghi, non soltanto nei libri. Però è bello anche raccontare dove mangiare le nostre fettuccine, piuttosto che in quale stagione mangiare il peperone. Però tu sei un'esperta anche di mise en place, setup della tavola, apparecchiatura, per tradurlo in italiano. Perché si mangia, si muore anche con gli occhi, no? E quindi secondo me un piatto deve essere innanzitutto buono, ma anche bello, perché se è bello lo mangi più con le tue. Ricky, lo sappiamo, ormai, Ricky interessa molto di più la sostanza. Anch'io sono prima buono e poi anche bello. No, il bello, basta che il bello non tolga il buono. Sì, esatto, sì. Su quello siamo d'accordo. Basta quello là. Vogliamo capire i gusti di questo incravattatissimo, elegantissimo mio amico. Barù. Barù. Il mio origine è sostanza, a me mi puoi anche buttare lì con un cucchiaio, se è buono è buono, se è cattivo è cattivo. Bravo, bravo. Quindi, buon gustaio, buona forchetta, si basa sul gusto. Seconda cosa, io sono quasi intollerante ai peperoni. Benissimo. Però non sono un esperto. No, no, ci penso di preoccupare, Barù. Eh, ragazzi, le prove sono comunque a sorpresa, cerchiamo di camminare nell'orto stagionale anche. Allora, adesso dobbiamo conoscere un po' anche i miei concorrenti. Allora, Franci, intanto dimmi il tuo piatto, che piatto farai? Allora, io sto facendo delle sorprese giallorosse, ossia... Oh, bene. Eh, vai in lo studio, guarda. Bene, 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 bene. E sono dei tortelli. Ah, il tortello, quindi la sorpresa sarebbe il ripieno. Esatto. Raccontami un po' il procedimento. Faccio una farcia con la ricotta di pecora e i peperoni rossi e poi li adagio sulla crema di peperone giallo. Ok, io, siccome non... Sono molto attenta allo spreco, ti butto via gli scarti. Grazie. E ti lascio eventuali pezzetti di peperoni a disposizione. Grazie. Ok, mi raccomando, attenzione alle cotture, i peperoni si caramellano facilmente. Grazie. Simone, ma io ce la facciamo con il tempo, perché ho sentito farcia, fagottini, cose, mancano appena 90 minuti, non lo so io. No, in realtà mancano 4 minuti e 40 secondi. Ecco, appunto, devono pure bollire, non lo so, Simone, ma poi fai come credi, eh. Allora, Ricci, la fantasia è loro. Io posso aiutarli se vanno in difficoltà, magari non all'ultimo minuto, premendo il campanello. Ma qua c'è anche una domanda che mi stanno facendo, là già dietro mi stanno guardando e mi dicono... Ma è fidanzata? Eh, sono fidanzata quasi sposata. Mi sposo veramente a breve. Ah, ok, allora vi facciamo tutti gli auguri. Auguri. Grazie. Auguri. A me ha detto una cosa, perché l'ho conosciuto dietro le quinte, mi ha detto, dipende se la sposo, se vince, bene, se non vince. Vi ricordo che le padelle sono intraderenti, avete delle splendide spatole in gomma che servono proprio a non rigare le nostre nuove e bellissime padelle che sono qua a disposizione. Elio, raccontami prima il piatto che farai. Allora, faremo degli gnocchi con della crema di peperoni, una tartare di tonno aromatizzata al basilico, della burrata a condimento. A condimento. Ok, quindi ti devi dedicare principalmente a formare gli gnocchi. Gli gnocchi. Ok, li fai con l'uovo o senza uovo? Con l'uovo. Ok. Allora, tu come siamo messi? Sposato? Sposato, papà di una bimba di quasi quattro anni. Parte l'altro applauso, allora. Come si chiama? Si chiama Ginevra. Ciao Ginevra! Salute. Mi caccia di casa. Lo spero di no, ma cucini tu a casa? Sì, il cucino. Se hai il cuoco di casa, mi dicevi specialità? Ma normalmente i piatti di mare. Ah, i piatti di mare. Allora, loro devono ovviamente anche un pochino sciogliersi e la mia presenza spesso e volentieri è più fastidiosa, quindi vorrei andare alla mia mensola, così finisco la mia semplicissima ricetta, che però stavolta ha qualche consiglio. Allora, in vista anche di un periodo caldo, estivo, le paste fredde, che spesso e volentieri, sono un po' tristi dal punto di vista visivo, possono invece risolvere sia il trasporto, magari, sul lago, sulla spiaggia, sul picnic, e ovviamente anche quello della conservazione a casa. Quindi, prime regole. Se si usa una pasta classica, quindi non integrale, come quella che vi ho detto io, rimane bianca, quindi usate una mezza bustiera di zafferano in polvere in una pentola d'acqua, così la pasta assorbe il giallo e l'impatto visivo è molto più gradevole. Io utilizzo la pasta integrale perché a freddo mi dà comunque un po' di profumo e aggiungo un terzo in più del sale nell'acqua di cottura, perché le scolo a due terzi di cottura, quindi su dieci minuti la cuocio sette, la scolo e la raffreddo subito, questo fa perdere il sale. Questo è per la cottura della pasta. Il peperone lo faccio esattamente come lo sta utilizzando Elio, quindi o cotto sul fornello a vivo oppure in forno sotto il grill, per poi lasciarlo in un sacchetto sudare e pelarlo. Questo lo rende molto più digeribile e cremoso. Lo taglio a dadini, lo aggiungo alla feta, spezzetto la menta con le mani, aggiungo extravergine sale e pepe del mulinello e basta. E con quello condisco la pasta, più semplice di così. Allora, ma li hanno pelati i peperoni almeno? Ecco. Posso chiedere? No, ma una cottura a fuoco molto molto vivo li ha ammorbiditi tantissimo. Ammazza ragazzi! Questa proprio... Ci siamo? Sì ci siamo, ci siamo. Stiamo impiattando, il tempo sta scadendo, ancora da tuffarli, vabbè gli occhi cuociono in un attimo. Dai, 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 dai. Giusto perché non passino messaggi sbagliati, lui, lei voleva un po' far fregarti. La cottura veloce su una cosa con la buccia è il contrario, cioè magari più lenta. Comunque pelatelo il peperone che è sempre meglio. Più che altro perché la parte della polpa, se la cuocete un po', si sfalda e poi è buona la pasta. Pezzo di peperone della buccia tra i denti non è il massimo. Io mi alzerei la pasta. Dai, dai, Franci che ci siamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Riempito di farina fino alla testa. L'hai finito? No. È finito? No, ci manca un po' di burrata. Allora, Francesca. Era pecorino, non farina, quindi una bella struttata. Era pecorino, ah, grazie, sì. Riccardo, guarda, la mattina si spruzza il pecorino romano. Sì, esatto, così. Avanti. Ok, tu sei in debito con me. Allora, volse. Ci siete? Pronti. Via. Allora, partiamo dal tortello a sorpresa. Com'è che l'hai chiamato, Franci? Sorpresa giallorossa. Sì. Vediamo se è una bella sorpresa. È arrivata una zaffata di pecorino stupenda. No, ma non è lì, sono io, me l'ha tirato un bacio, sì, ecco. Io sento solo il peperone, comunque. Però vediamo, vediamo. Ma per il tempo mi sembra ottimo. Cotto bene. È cotto bene la pasta? Sì, sì, è cotto bene. È un po' duro, però ci siamo, quasi ci siamo. Il peperone non si sente troppo, quindi a me piace. Quindi ottimo lavoro. Grazie. Per ricapitolare, Enrici, c'è il peperone giallo, cotto e frullato sotto, e il rosso insieme a ricotta e pecorino? Sì. All'interno. Questo è dentro? Vai. È un finger food per Enrici questo. Ma, quindi il rosso era dentro. È la sorpresa, sì. Hai sentito? Ti dico sì, Pogos. Non è che conosci bene, ah, questo è giallo, questo è rosso dal gusto. No, no, il gusto è super giusto. Però già il fatto che ti mangi una cosa giallo-rosso, sei contento. Ecco. Questa andava un po' più salata, è sciapala la salsa gialla, però buono, buono, brava. Vediamo. Quando sei partita pensavo il contrario, visto che la pasta è gialla, pensavo il rosso sta sotto, se si stacca la pasta e il giallo sta dentro. Bravissimo, siamo meravigliati. Perché è una vera sorpresa. È vero, giusto, giusto. Un pochino la vedo, effettivamente, guarda, è difficile. Io non ho fatto come te che lo mangio intero. No, ci mancherebbe. È difficile da tagliare. Esatto. Vediamo. E beh, là c'è, Saba. Dunque, mi piace. No, mi piace. Sì, devo assaggiare bene. È giusto. La pasta, forse un 30 secondi in più di cottura gliel'avrei data. Sì. Appena, appena. Però il sapore è molto buono, buono l'insieme, il peperone non dà fastidio, anche se io gradisco anche la pelle. E direi che nell'insieme non lo trovo invece sciapo, forse per il pecorino, lo ravviva un po'. Inverto, inverto. Ovviamente Francesca si è un po' complicata la vita, nel senso che per stupirvi ha fatto un piatto dove c'è da fare la farcia, la forma, cuocello, quindi dai, un po' la cottura gliela abboniamo. Questo è il piatto di Elio, il nome del piatto, Elio? Sono degli gnocchi tonnei. Che cos'è, un sashimi di tonno? È una tartare di tonno. Questo Barù, il peperone era arrostito e pelato. Arrostito e pelato. Buono, c'è la burrata, un po' acida, il peperone dolce, ci sta, ci sta, mi piace. Vi velocizzo un attimo. Allora, qua c'è la roba gruda, giusto? Il tonno è crudo, gnocco cotto, burrata cruda, peperone arrosto a freddo, vero? Sì. Buono. C'è, effettivamente si apprezza anche un po' di più il peperone cotto, come hai detto tu prima Barù. Diventa un po' più dolce. Effettivamente sì, devo dirti la verità. Vediamo se Axala piace. Sì, l'aspetto è molto interessante, sinceramente. È quasi più giallorosso questo, proprio volendolo dire, no? Crema di peperone, ottima. Non mi piace tantissimo, personalmente, i due livelli di temperatura, però secondo me dando appena una scaldatina al peperone, migliora. Ok, adesso lo diciamo con i pennarelli, votiamo il piatto di Francesca, i tortelli a sorpresa, peperone rosso dentro, ricotta pecorino sul crema di quelli gialli e lo votate con il celeste. Da 1 a 5, parte Barù. Bravo, sono d'accordo, pure io. Ok. Buono, ottimo Francesca. Per poi votare il piatto di Elio. L'ognocco di patate, tonno a cubetti marinato, burrata e crema di peperone rosso a rosso. Yes. Purtroppo mi è piaciuto di meno. Lo sicuro, lo sicuro, lo sicuro. Bravi, bravi ragazzi, perché la prima prova è spesso e difficile. Per un punto solo, 13 a 12, porta a casa la prima sfida. Elio. Bravo. Molto bene. Come prima sarà Elio a scegliere il tema, anzi l'ingrediente della prossima prova, però prima diamo una pulitina. Pubblicità. Ben tornati in studio a pochi fiammi, amici della 7. La situazione è questa. Elio condusse per 13 a 12 su Francesca. Un punto non è niente, però hai la possibilità di scegliere l'ingrediente base per la prossima prova. Direi pollo o calamaro? Beh, venendo da una città di mare, calamaro. Giusto. L'ha detto prima. L'ha detto prima. Come siamo sul pesce, Fran? Va bene, ma io sono originaria di Ostia, quindi sul mare ci siamo. Allora il calamaro, il pesce base per la prova di creatività. Bene, come sempre, ingrediente base sul tagliere, bello pulito, un po' vi ha avvantaggiato, perdete meno tempo. Il resto è dietro di voi. 45 secondi per Elio, via! Franci, aspetta che ti do il via io. Vediamo con cosa mi esce Elio. Allora, limone non trattato. Presumo che sia vino bianco. Poi abbiamo del pane. Del provolone affumicato. Via, Franci! Cos'è, scamorza? O provolone? Cos'è, provola? Provolone. 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 Chi? No, così. Dolce? Farina per Francesca. Puntarelle! Puntarelle! Salsa di soia. Quella col tappo verde è l'assinzoa. Meno sale. Questa è una delle mie preferite. Ragazzi, manca poco tempo. Pisellini, zucchine, c'è un sacco di verde. Ah, gambero rosso sgusciato. Ci rovini oggi. Stop al tempo! Ok, non è detto che chi ha più ingredienti, sappiamo, 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 sappiamo. Sarò fiscalissimo sul tempo perché avete 12 minuti a disposizione, creatività nel piatto. Via! Subito, prego, mi dica. Allora, ho dimenticato una cosa in dispensa. Le uova. Barù? Sì? Che? Ha dimenticato le uova in dispensa. Eh, lo so, ma lei guarda, ogni volta ha lasciato il peperone, una volta lì, che facciamo? Prendile. Dal pollaio. Faccio decidere ai miei nuovi giudici. Cosa mi dite? La lasciamo perdere la prima, facciamo i buoni? Sì, dai Simone, dai un uovo. Elio mi ha aiutato qualche secondo in più. Dai, va bene, allora, tutti qua ti facciamo, qua funziona così, le regole possono essere anche un po' calpestate, finché è un uovo. Allora, quindi il campanello ce l'abbiamo ancora in bonus, visto che Elio sta mollando del... Ah, te lo tolgo, eh. Che faccio? Mi servirebbe una pastella di acqua e farina. Che ci vuole, Gimo? Dimmi cosa farai, allora, parliamo del piatto. Io vorrei fare un letto di puntarelle. Occhio, 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 eh. Sì. Sul quale mettere dei calamari, sia fritti che flambati. Ok. Cioè, tre saranno flambati e tre saranno fritti. Quindi poi una pastellina che rimanga anche croccante. Sì. Ok. Abbiamo 12 minuti, non 12 ore, no, lo dicevo così adesso, eh. Perché? Perché sento tre flambati, tre, tre pastellati, tre cose. Allora, io sono costretto a farla, ovviamente, con gli ingredienti che tu hai scelto. Però a casa, visto che io sono qua anche per dare un po' di consigli, pastella velocissima per friggere le cose senza caratterizzarle. Quindi, se tu friggi con quella pastella dove c'è birra, dove c'è l'uovo, dove c'è il latte, ci sono degli zuccheri dentro. Quindi si caramellano e danno odore, sapore e colore alla pastella. Se la vogliamo far bianca, facciamo farina 00, magari setacciata, e poi uniamo la stessa quantità di farina di riso. Non avendo l'amido all'interno, scusate, non avendo il glutine all'interno, dà meno elasticità alla pastella. E automaticamente la pastella tende ad avvolgersi meno e fa bollare, soprattutto se è allungata con acqua gasata, freddissima. Poi, il calamaro, essendo così liscio e viscoso, tende a farla cadere un po' alla pastella. Quindi, in ogni caso, io darei prima un'infarinatina velocissima, tipo, che ne so, ora non posso assolutamente farglielo, però se uno prende una bacinella così e ci mette un pochino di farina, gli dai un'infarinaturina, gli tende a stare meglio attaccato alla pastella. Poi, per spiegare la gente a casa, il calamaro è la rotella, no? La rotella. Il calamaro? Sì, la rotella che ti immagini è fritto. Calamaro, bello, grande, così, fritto, insomma, un po' alla morte sua. Una crema di piselli con la menta. Ah, fantastico. Sì, allora, prendiamo il mixer anche noi. Allora, raccontami anche tu il piatto, Elio. Allora, questo è un piatto particolare, a cui ci sono molto, molto, molto affezionato, che lo, diciamo, è il mio calamaro al profumo di sorrento, tanto è vero che si vede il limone, un po' la menta. Il tuo calamaro, quindi, è un piatto che fai spesso? Sì, 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 è un piatto che faccio spessissimo e che, come dicevo, ha un ricordo particolare perché questo piatto lo stavo preparando a mia moglie quando mi disse di aspettare la mia dolce principessa. Quindi tu hai il calamaro come ingrediente del tuo piatto forte, in pratica? Sì, sì. Ho capito bene? Sì, sì. Fantastico. Le dita, proteggiamo quelle dita, che vedo un'insalata di dita. No, io più che altro vorrei una cosa. Avete, un tagliere è stupendo, fatevi spazio, ok? Non mischiare tutto già insieme, hai una materia prima stupenda. Dici sempre le stesse cose, non entrano in testa mai. C'avete il tagliere, usate il tagliere! È l'emozione, Ricky, è l'emozione, è l'emozione, è l'emozione. L'ho imparato pure io. Saba, la migliore cottura, quella che ti piace di più e che preferisci per questo tipo di pesci? Ma indubbiamente è in tempura, è buono. Fritto è buono. Anche in umido, però fritto è buonissimo. Anche perché friggendolo ti dà quella velocità che lo rende morbido e... È difficile, infatti adesso voglio vedere come lo faranno, ma non è semplice. Il calamaro deve essere tenero dentro e croccante fuori, no? Quindi se è fritto bene è davvero eccezionale. Allora, quando si usano dei pisellini, magari anche decongelati, usiamo il fatto che la temperatura, quindi il freddo, li mantenga brillanti. Si può partire buttando dire... Cuochi e fiamme! Cuochi e fiamme! Talla giù, tela giù! Quindi se siamo i pisellini surgelati, si può andare direttamente, Riky, che a te piace tantissimo frullare, con l'olio che si emulsiona e lucida. Sì. Ovviamente un pizzico di sale e pepe a seconda di ciò che vi serve, poi il di sapore te la devi aggiustare da solo. E vado direttamente ad aggiungere con il coperchio un pochino di acqua calda. Sì. Aggiungendola pian piano a seconda della densità che voglio raggiungere. Così mi rimane anche piuttosto brillante. Do due colpetti per renderla in purea, poi faccio partire e aggiungo l'acqua. Come la vuoi densa, Elio? No, no, deve essere proprio molto liscia e omogenea, possibilmente. Perfetto. In un altro modo come ti piace il pesce, io ti vado a dare la ricetta estemporanea. Proviamo con la salsa di pomodoro, perché mi intriga molto il concentrato, la messa nella maionese. Perfetto. Allora. Prendete una piccola barca a circa 7 metri, andate di notte sui 50 metri di battimetri che pescatevi. Prendete un pesce italiano, possibilmente del Mediterraneo. Soprattutto questa tipologia di pesce si trova sul mercato proveniente dal Sud America, Argentina, perché c'è una grandissima quantità di pescato. Però la qualità del Mediterraneo e la salinità del Mediterraneo è tutta un'altra cosa. Io prendo un coltello, lo metto all'interno della sacca del calamaro. Prendo un altro coltello e ci taglio sopra per fare una sorta di taglio a pettine, in modo che il pesce rimanga comunque integro, un pezzo unico. Queste fessure che in cottura si allargeranno faranno passare il vapore fuori dal pesce, così all'interno non si lessa. E in più, se si va a piastrare, io lo faccio il barbecue, ma va benissimo anche una larga padella antiaderente, con un goccio d'extravergine, uno spicchio d'aglio con la camicia schiacciato. E usate un rametto di rosmarino inserito all'interno del pesce, darà un profumo senza bruciarsi, pazzesco. Io non metto neanche il sale, vado a piastrare prima dalla parte che ho inciso. Il contatto con la padella e questi tagli fanno passare l'aria e quindi automaticamente vi dà quella rigatura nera che cambia e dà il sapore vero a questo pesce, senza farvelo asciugare troppo. Il pomodoro che voleva Xava si fa soltanto nel periodo estivo, quindi pomodoro in piena stagione. Io prendo i pomodorini di datterini, visto che vogliamo fare le cose veloci, come piace a Riccardo, lavato e messo nel mixer. Mettete delle foglie di basilico, una spruzzatina di limone e se vi piace la salinità qualche cappero. Frullate il tutto insieme con un ottimo extravergine, delicato. Se non vi piace la buccia lo potete filtrare. E se volete qualcosa di più denso, aggiungete mezza patata bollita. Vi terrà tutto insieme e fate un pesce con una salsina semi-densa, freschissima e soprattutto super light. Torno in cucina! È sempre possibile in cucina! Torno in cucina mentre... Ah, lo facciamo farcito! Farcito! Lo servirai sulla vellutata? Sì, sì. Assaggiala perché io non posso fartela, posso fare solo la parte manuale. Manca un minuto esatto e faccio un giro random partendo da Ricky. Parto da Ricky per sapere come lui ama questo pesce. Guarda, io li amo spesso al ristorante, dove dice cosa prende? Un fritto di calamari e i gamberi. Pure i gamberi, non solo i calamari, che sono le rotelle. Perché quando sei piccolo le chiami le rotelle. Esistono solo a rotelle. E l'altro dicono, voi che volete? No, io prendo quello poi. Non lo faccio assaggiare, eh! Non lo faccio assaggiare! E me lo finisco tutto. E sai il magic touch? Qual è il mio? No, no, no. Un po' di pepe! Ah! Un po' di pepe di Sichuan! No! Aspetta, 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 aspetta un far applauso. Mettiamola alla prova fino in fondo. Quella cosa che spesso non dovrebbe metterci nessuno sul fritto, ma che ci sta spesso vicino, giallo e succoso. Che è il limone. Ma io non capisco perché lo mettono! Io non lo capisco! Forse per le mani dopo! No, no, non va messo sul fritto perché poi si ammola. Non va messo, non va messo, non va messo, è bello, croccante con questa cosa. Pepe! Pepe di Sichuan! Senti cosa si ricorda, Ricky! Hai capito? Allora, Barù! Barù! Allora, come dici te, se vado in barca e li pesco, ha la griglia, fantastico! Non vi l'ho ancora raccontato, Barù è un appassionato come me di pesca. Ha un vecchio gozzo di 90 metri! Non manca un motoscafo di plastica di 5 metri. Comunque, pesco, non pesco, non sono un pescatore professionista, però quando pesco cucino. Come lo fai, sto calamaro? Alla griglia, come dici te, un po' di rosmarino, olio, sale, pepe. Madonna mia, che buono! Proprio pulito pulito! Che buono! Che buono! È buono! Impiattiamo, impiattiamo! Mancano pochissimi secondi! Quindi, chiedo là, mancano dieci secondi nemmeno, dodici secondi, quindi dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! Stop! Minimal per Elio, bello sostanzioso. Che bello, Franci! Belli, belli entrambi! Bravissimi, ragazzi! Ve lo faccio ulteriore l'applauso! Belli, belli, belli! Questo è il piatto di Francesca che si chiama? Ogni riccio un capriccio! Ogni riccio? Ah, ok! Allora, questo sembra stupendo, devo dire. Devo provare tutti e due, uno flambé e uno fritto, no? Sì! E anche un po' di puntarelle, un po' di salsina. Avanti! Vedi che si fa il piattino, bravo Baru, io ho troppa ansia! Buono! Calamari cotti bene, mi piace molto, molto bello. Puntarelle buone. La salsina non so quanto c'entra, forse? Io non posso dire niente in questo momento, soprattutto perché vi posso influenzare, però se non lo tirate fuori voi, vi dico io una cosa da evitare in questo piatto bellissimo. Dimmi cosa evitare, Simone. No, la salsina è vero, prima è salsina. È buona la salsina, però forse non ce la metterei. Allora, qua vedo una tapenade. No, non è vero. Allora, aspetta, una julienne. Mentre Ricky assaggia, io faccio partire un altro applauso, soprattutto a chi fa la spesa per cuoche fiamme, perché abbiamo una materia prima stupenda e visto che ho già preso l'applauso, lo continuo salutando Sabina Tricarico e regia, tutti gli operatori e tutti i ragazzi che mi fanno vedere nel dettaglio tutti questi bellissimi piatti. Continua, continua. No, Ricky, si mangia un chilo di peste. Dai, Ricky, dimmi. Allora, quello che ti dico io è questo. Il calamaro con la soia non l'ho apprezzato tanto. È la puntarella con la soia. Scusa, però quest'altro saltato a flambe ha detto una parola. Flambe, volevo dire quello, perdone. Mentre invece quello fritto, devo dire che è molto buono. Per la cottura o per il sapore, Ricky? Anche la cottura, devo dire la verità. Hai visto che ci ho preso? Io ho detto, però infatti questo ti chiedo. Invece quello fritto, vedi, che succede? Ragazzi, consiglio per i prossimi concorrenti di Cuoche e Fiamme. Se volete un 5 da Riccardo, friggete qualcosa o mettete pepe pecorino o guanciale. Queste sono le regole. Allora, andiamo su Xavro. Devo dire, adesso me l'hanno un po' rovinato loro, però il piatto... Scusa, Xavro. Setti la mano così. No, era molto bello. Grazie. No, era molto bello, l'ho visto quando ce l'aveva Barù. E anche lo trovo molto creativo, perché vedi, il fatto di mettere la soia, ha detto anziché il sale, comunque è interessante. Ora vediamo, parto dal flambé. Anche io, io ho le palamare. Perché se vuoi, diciamo, un po' più delicato, non vorrei rovinarmi le palamare. Cosa gli hai messo per fare il flambé? Ho messo del brandy. Buono, cottura veramente ottima. Grazie. Vediamo questo. Ragazzi, vi ricordo che questi piatti sono fatti realmente in dodici minuti. E' uno scandalo, è uno scandalo. Quindi, quello che vi stiamo dicendo sono solo per metterli appunto a casa. Ok, devo cambiare e andare su Elio, che ha autodichiarato inizialmente che la scelta di questo pesce è anche stata fortunosa e appuntino, perché lui ha fatto un piatto dedicato a sua moglie quando ha saputo della dolce attesa e quindi ti sei automaticamente portato su un'aspettativa alta. Dentro ci sono gamberi rossi, pane ammollato, profumo di menta e la crema di piselli sotto. E il provolone affumicato. Ecco, bravo, grazie Simone. Ci mancherebbe il dovere. Beh, oltre il fatto ovvio che dovevi magari cucinare il calamaro un po' di più, che vabbè, non c'hai tempo e quello lo capisco. Buono, molto buono. Il ripieno mi piace. Tanti sapori, però li sento tutti bene. No, no, giusto, equilibrato. Bravo. Ok, andiamo ad Enrique. Assapora tutto, è complesso questo ripieno. È complesso, hai detto bene, perché... Dunque, come diresti tu, è un po' ciccoso. Il calamaro? Il calamaro, forse un po' troppo, però forse è un problema mio. No, di cottura, probabilmente. E dentro c'è una spezza che tu sicuro conosci, che all'inizio sembra quasi come una medicina, come una cosa, come una medicina, capito? E poi dopo arriva tipo quelle parole tue, aneto, queste parole tue strane. Lui ha messo la menta e poi ha messo la buccia di limone. Però credo, forse, che sia... Un tipo di menta. ...sia il sapore del gambero con la provola. Ce l'ha fumicato anche dentro un po'. Ah, forse un po' di fumè. Sì, un po' indietro di cottura, però devo dire, come prova di creatività, tanti sapori che abbastanza ben equilibrati. Non la sento, sai, questa spezia. All'inizio sarà la menta che evidentemente, se non è mentuccia romana... È così fino il palazzo di Ricchi, che a volte ti trova delle cose che capisci. La luna storta con la menta, tante cose. Ok, non abbiate la luna storta con i pennarelli, con il celeste, il piatto di Francesca. Ogni riccio ha un capriccio. Puntarelle, calamaro in due cotture e salsa di pomodoro. Eh, ma io, purtroppo, con la rotella, con la rotella. Per poi andare sul calamaro di Sorrento di Elio, che era farcito con gambele rossi, pane, provolone affumicato e salsa di piselli e menta. Prima di andare a dire la votazione, ho lanciato una cosa prima, ve la dico, se fate cose fritte, mai salse sopra, perché si ammoscia il fritto. Detto questo... 14 a 9, cambio, sorpasso, Francesca è in vantaggio, brava! 26 a 22. Allora, la prossima prova normalmente è più nelle corde femminili. Non si mangerà in giuria, ma si guarderà soltanto. Guarda lo sguardo di Xaba. Ha fatto così, ha fatto così. Guarda tipo... Qui mi voglio. Sono pronta, sono pronta. Però, come prima, va pulito tutto e sinceramente voglio assaggiare anch'io. Pubblicità. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Qua spadelliamo, che è una bellezza. Bellissimi piatti che la prova di creatività. Stavolta ti ha sorpassato. Francesca è in vantaggio, 26 a 22. Vieni, Elio, approfinquatevi qua accanto a me e vi do subito un coltellino in mano, perché... Ho bisogno di un po' di succo di limone. Allora, partiamo così. Questo è un limone. Sì. Dove si può usare tranquillamente anche la buccia. Limoni non trattati, limoni che dia un profumo e che non abbiano soltanto un succo dentro. Quindi, per un qualcosa come questo, semplicissimo, è una sorta di hummus. Dico una sorta perché non metto aglio dentro per caricarlo e lo faccio un po' speziato. Quindi, gli ingredienti sono dei ceci cotti. Questi sono ceci bianchi, biologici, ammollati 8 ore e cotti, anche a pressione. Quindi non ci sono più scuse su non c'ho tempo di cuocere. Pressione, chiudete, 12-15 minuti, sono perfetti e non si rompono. Mi serve il succo di limone. Visto che questi sono belli tosti, dategli anche una massaggiatina come si fa con il lime e me li spremete. Io intanto parto così. Metto un pochino di prezzemolo sul fondo. Allora, alla scuola berghiera, primo giorno di scuola berghiera, ti insegnano a tritare il prezzemolo, ok? E ti fanno sfogliare tutto il prezzemolo per poi tritare le foglie. Ora, se avete un prezzemolo con i gambi piuttosto sottili, dovete partire invece a tritare il gambo, perché è la parte meno amara e che dà anche un po' di croccantezza. Si parla di spolverare la pasta e altre preparazioni. In questo caso gli do una frullata e quindi automaticamente lo rompo tutto. Quindi metto un pochino di sale all'interno, metto l'olio, però prima di mettere l'olio, ovviamente aggiungo prima il succo di limone. Questo perché? Perché se aggiungo l'olio sul sale, come si fa per l'insalata, impermeabilizzo il grenello di sale, lo rendo impossibile da sciogliersi e quindi si sente la granulosità in bocca. Questo è un consiglio più per le insalate che per questo. Guarda come brava il mio spremi agrumi a fare il succo di limone. Grazie Franci, grazie Franci. Allora, qui le dosi vanno a piacere vostro, ovvero ci saranno i ceci che danno la farinosità e la cremosità, c'è il limone che dà l'acidità, quindi l'unico modo per sapere quanto metterne è assaggiarlo anche, ok? E poi si può aggiustare strada facendo. Se vi serve per accompagnare un pesce o qualcosa di tendenzialmente dolciastro, lo caricate più di acidità. Se vi serve invece come antipasto, quindi lo fate più denso per fare un dip, quindi che siano focaccia croccante, tortiglia, qualsiasi cosa vi possa servire da prendere tipo aperitivo, in quel caso lo facciamo un po' meno acido e un pochino anche più denso. Allora, metto il tappo, stappo, così posso agire da sopra e cominciamo a frullare. Aggiungo l'olio, così creo una base, perché se metto prima i ceci le lame pescano male. Voi mi dite perché usi un bicchiere per frullare principalmente i liquidi? Perché i ceci sono ancora caldi, c'ho un brodo tiepido qua e quando faccio queste preparazioni le lascio più fluide all'inizio, perché i ceci frullandosi poi automaticamente tendono a tirarsi l'umidità all'interno, raffreddandosi, questa è una preparazione che si serve fredda, quindi uso un qualcosa da liquidi e la faccio subito più morbida perché così rimane più fina e poi dopo raffreddandosi tende a tirare un po'. Adesso vi faccio vedere una cosa simpatica, mentre intanto aggiungo gli ingredienti e frullo. Allora, guardate il tahin, questa è, scherzando con Ricky, è una pasta di sesamo, si trova in tutti i supermercati adesso, che non è tanto buona da mangiarsi così, è molto pastosa, ma guarda la suscettibilità di questo, ingrediente, guarda come reagisce con il succo di limone Ricky, se voi partite sbagliando e fate tahin, succo di limone, vi si blocca, diventa tipo una pallina, puoi girarlo lì sopra stando dove è posizionato così riusciamo a pescarlo, prova a girarlo, diventa tipo un blocco, si appalla, ok? Perché il tahini è così, è così, dovete capire proprio che è un problema che tutti gli hanno detto te la prendi, croppo, io sono suscettibile! Si addroma tutto? Fantastico, io ho scelto una miscela di spezie, quindi un curry per profumare un po', questo non ci va nella ricetta originale, però mi dà anche un po' di colore, visto che la prova che dovete affrontare dopo è di presentazione, quindi è una prova visiva, do un pochino più di colore rispetto a quel giallino tenue che può avere. Se volete caricare di profumo il curry, fate quello che ho fatto un attimo prima, cioè lo tostate leggermente in padella, questo tutte le spezie in polvere si scaldano agli oli essenziali e danno un profumo maggiore, quindi un po' se ne usa meno, intanto, quindi un risparmio se vogliamo, e in più si sprigionano al massimo tutte le potenzialità. Il sale l'ho messo e cominciamo a frullare. Non infilate robe strane dentro, su pelletti lì, a meno che non siano i suoi ad hoc che non arrivano alle lame. Di solito è servito freddo, ovviamente, con una spolverata sopra di paprika e un filo d'olio. Va benissimo. Stacco, ve lo verso qua all'interno e chiedo già a Elio di poter tornare in postazione. Ovviamente questo ora è caldo, ma in frigorifero prenderà comunque consistenza. Il giallo vi aiuterà nella prova visiva e, se volete, sopra possiamo metterci anche una spruzzatina di paprika. Vengo qua, Francesca torna in postazione e vi dico che, anche se non è l'originale, è l'hummus, l'ingrediente base per la prova di presentazione. Puff! Come per magia sono apparsi un sacco di ingredienti. Usateli come colori, come pennellate su una tabolozza. Insomma, sarà soltanto visto e esaminato soltanto al colpo d'occhio. Avete pochissimo tempo, quindi siate belli rapidi, scegliete bene il piatto. Anche la forma della ceramica è importante, cioè abbinate bene i colori anche sul piatto. È in vantaggio, Francesca? Dai che si può recuperare. Pronti? Attenti? Via! Parte la prova di presentazione e, di solito, visto i pochi tempi, li lascio tranquilli. Io voglio sapere una cosa, Ricky, perché poi sono anche un po' pettegolo in queste cose. Perché spesso mi chiedo, vista l'età, il mio sogno è aprire una fattoria. Andrete a vivere, sarai a lavoro? Sì, in Umbria dove abbiamo praticamente questa azienda in biologico e dove coltiviamo praticamente in Umbria. Fate bio? Sì. Allora, guarda, ti do davvero la mano e io prometto di venirvi a trovare con un invito. Andiamo volentieri. Il futuro, il lusso, sarà avere un pezzo di terra che rende degli ingredienti sani. Questo sarà assolutamente il futuro. Allora, Xava, questo è un po' il tuo mondo. Cioè, sei, diciamo, la più specializzata di tutti qua dentro, se vogliamo, in questo che è la presentazione, il colpo d'occhio primario che è quando un piazzo arriva a tavola. Ci sono delle regole comunque da seguire? Almeno due o tre aneddoti che valgono un po' per tutto? Ma direi, intanto, non esagerare comunque perché è difficile a tavola rendere bene il barocco. E poi fare molta attenzione, come hai detto tu prima, ai colori. Usarli sì come una tavolozza, però non esattamente come un quadro magari di Gauguin. Perché il cibo ha comunque colori di solito abbastanza tenui e il piatto deve servire a bilanciarli e ad esaltarli. Quindi se hai magari, ecco, per ogni prima con rosso non li avrei messi su un piatto blu. Inveceversa, se hai invece un piattino un po' sciopero di colore, magari un bel piatto che allora arriva, aiuta. Allora, io a Riccardo ve lo presento sempre come attore, giustamente, e come simpaticissimo esperto di cucina romana. Ma Riccardo è un grandissimo pianista e un esperto d'arte. Questo è vero. Un esperto d'arte? Dai, mi tiri fuori delle cose che io butto nel mio bagaglio. Allora, visto che siamo arrivati al quadro, qual è il tuo artista preferito che vorresti trovare nel piatto, il genere? Ma sai, io tutto sommato mi piace anche molto l'essenzialità di un Mondrian. Ma come me ne riesco? Ma io, certe volte... Piatto quadrato, stavate a me. Piatto quadrato, capito? Quindi te lo va bene. Ok, signori miei, vi ho dato il tempo per fare delle cose belle e adesso, come tutte le cose belle, prima o poi finisco. 3, 2, 1, stop! Stop! Piatto sulla stata, bravi, siete stati in tempo in tutte le prove. Bella, bella, bravi, bravi. Wow, wow, wow. Ho paura a prenderli, guarda. Zan, 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 zan. Allora, 26 Francesca a 22. È il piatto di Francesca. Beh, molto bello, continua a usare il peperone, però devo dire funziona, no? C'è il rosso, giallo, tutto anche pratico per fare il dip. Ha un nome? Fantasia in rosso e nero. Ah, si è passata da Roma al Milan adesso, perfetto. Esatto, oggi sono cosmopolita. Mettiamo tutti d'accordo. Guarda, il piatto mi piace molto, poi ti devo dire che il fatto che il peperone sia usato come un contenitore mi diverte, tuttavia... Ecco, sì. Forse avendo messo questa piadina bianca avrei messo un piatto nero sotto, scusa. Scusa, zan, zan. Mistico. Scusa. È uscito così. Te lo concedo. Grazie, spazio. Sì, anche perché sono d'accordo, i colori sono tanti. È molto creativo, sicuramente è pratico, però tanta roba. Più che altro sbordare del piatto può essere un po' pericoloso, diciamo così, per non dire altro. Allora, da qua in mezzo vi sottopongo il piatto di Francesco, che si chiama? Di Elio, scusatemi, che si chiama? Crudite. 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 Allora, intanto mi piacciono i piatti tondi, quindi quello fantastico. I piatti geometrici strani, secondo me, portano a mangiare male, perché non sai mai come mangiarti. Quindi il piatto tondo, elegantissimo. Numero uno. Numero due, questo è un po' più nouvelle cuisine dell'altro, interessante. Sì, non vedo l'humus, però. No, io devo fare un po' l'avvocato del diavolo. Bisogna lasciare comunque un pochino la base come protagonista, però è una prova di presentazione, diciamo che ci può stare. Allora, diciamo, tu sei benissimo in questo tipo di piatti, proprio. Io vi dico, che cosa? E si è sbagliato, se me lo portano. Però è visivo, Ricci, ti piace l'impatto? Beh, insomma, c'è il verde sotto che non mi fa capire niente. A questo punto era meglio un piatto rotondo senza meno, bianco e basta, ma senza... Però, no, no, perché prima Elio mi ha detto in un orecchio che lui voleva esprimere la primavera in questo piatto. Ah, la primavera. E quindi voleva dare queste verdure sul verde, ha sentito dire biologico, Francesca voleva, capito? Va bene, dai. Io trovo che la scelta del piatto è molto interessante, ha usato davvero, insomma, un abbinamento complicato. A me piace, sinceramente. Sono d'accordo con Riccardo che anch'io non sono tanto, anche a me se portano una cosa così dico, vabbè, questo è il primo di 20, poi bisogna mangiare. Però è stato bravo nel valorizzarlo e anche nel costruirlo, quindi come mise en place direi, per me è bravo. Quindi diciamo che il succo è Francesca ha messo un po' troppe cose, Elio è stato un po' con le braccine a corte. Non lo siate voi con i pennarelli, votate Francesca col celeste da 1 a 5. 26 a 22 il punteggio, conduce Francesca. Per poi votare Elio, il tema era una sorta di humus, perché era diverso dal classico. Dai, forse. Voti un po' contrastanti, però belli alti, belli alti, fino ad arrivare a 13 a 11 per Elio, bravo! Ma non basta. Vincere Francesca, 37 a 35 e si porta come regalo di notte, già fatto da noi di poche fiamme, un bellissimo kit con tutte le nostre padelle e pentole pazzesche che abbiamo a disposizione. Elio, io vengo a trovarti a Napoli quando c'è un bel sole, così mi presenti Ginevra e gli do un basso da parte. Bravissimi ragazzi, voti sono stati altissimi, vi presento i nostri giudici che vi hanno valutato e votato fino adesso. Ci siamo divertiti, abbiamo preso un sacco di spunti, abbiamo capito anche un po' i caratteri dei nostri nuovi giudici, quindi non vi resta soltanto che prendetevi un po' di tempo per stare con noi anche domani. Ciao mamma! 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 Ciao mamma!